Sono giunte a Riccione le salme delle sette vittime della strage della 4 nei pressi del casello di San Donati Piave. Alle 15 è stata aperta la camera ardente al palazzetto del Play Hall di Riccione. Una lunga fila composta si era già formata qualche minuto prima dell'apertura delle grandi porte, da dove poi, poco dopo le 15, familiari, amici, ma anche tantissimi riccionesi, hanno iniziato a sfilare all'interno per dare l'ultimo saluto ai ragazzi della cooperativa Cuore 21 e Centro 21. Le sette bare, tutte uguali, disposte in fila, adornate di rose bianche e rosse, e la foto, ricordo, hanno avuto come primo picchetto d'onore quello di Andrea Agnassi, ex sindaco di Rimini e neoparlamentare PD, assieme alla sindaca di Riccione, Daniela Angelini. Poi è stata la volta della presidente del Centro 21, nonché mamma, di una delle ragazze decedute, Cristina Codicè. Il picchetto d'onore è stato formato poi dai volontari, che hanno risposto all'appello del Comune di Riccione. 176 persone, che a gruppi di 4 si alterneranno alla veglia delle salme. La camera ardente resterà aperta fino alle 22 e poi anche dalle 7 alle 11 del mattino di giovedì. Subito dopo, alle 14.30, sono previsti funerali.